www.universemod.com www.universemod.com Matt Riddle, forze freschissime da NXT Ali Candice Le Re Mark Henry Matt Hardy, che raggiunge il fratello Jeff a Raw per ricomporre gli Hardy Boyce Rea Ripley, l'ex campionessa femminile di SmackDown, colpo pesantissimo per Raw Baron Corbin Tyler Bate Alicia Fox Shelton Benjamin Brooklyn Von Braun, l'ex campionessa femminile di NXT A proda a Raw Kevin Owens, altro super colpo per Raw Curtis Axel, ex componente del Nexus 2.0 Kurt Angle, l'ex componente dello Shield 2.0, l'eroe olimpico, a proda a Raw Mendy Rose Sin Cara Sonia DeVille 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 Alia Bronson Reed Marise Zach Gibson Gli Street Profits, ovvero Angelo Dawkins e Mondez Ford, gli ex campioni di coppia di NXT Travis Banks Shane Thorne Kit Slater, anche lui come Curtis Axe è l'ex componente del Nexus 2.0, a pro da Raw Asuka, fa ritorno nel Rosso e Rosso, l'ex campionessa femminile di NXT Shinsuke Nakamura Tessa Blanchard, super colpaccio per la divisione femminile di Raw E per chiudere in bellezza, Roman Reigns, l'ex campione WWE E adesso, dopo aver chiuso con le acquisizioni di Raw, passiamo a quelle del roster giallo di NXT Vi ripeto che non teniamo conto di quelli che sono già appartenenti ai loro brand, ma solo delle nuove acquisizioni E partiamo subito con il primo super colpo E partiamo subito con il primo super colpo Orton Akira Tozawa Erik ed Ivar, i Viking Riders E partiamo subito con il primo super colpo E partiamo subito con il primo super colpo Austin Theory Kylian Dane Kylian Dane Kylian Dane Bo Dallas Bo Dallas Aria Daivari Casi Catanzaro Tamin Tamina Nicky Cross Kushida Il New Day, gli ex campioni di coppia di Raw, Big E, Kofi Kingston e Xavier Woods Super Megacolpo, Drew McIntyre, l'ex campione universale Cameron Grimes Dominic Dijakovic Tegan Nox Jordan Devlin Dexter Loomis Santana Garrett John Morrison Bet Phoenix Naya Jax Lacey Evans Lacey Evans Altro super colpo per la categoria femminile di NXT El Hijo del Fantasma L'Insuperabile Dave Mastiff L'Imperium Walter Alexander Wolfe Fabian Eichner E Marcel Bartel Angel Garza KILLER CROSS KILLER CROSS KILLER CROSS E chiudiamo in bellezza con il ritorno in WWE di Dean Ambrose E adesso passiamo alle acquisizioni del roster di SmackDown Vediamo quale sarà il primo colpo Dolph Ziegler Drew Gulak Drew Gulak Ginder Mahal Mojo Rowley Le iconiche Billy Kay e Peyton Royce Elias Rusev Rusev Mickey James Mickie James Bobby Lashley Akam Rezar, gli AOP, ovvero gli Authors of Pain Amber Moon, per rinforzare la categoria femminile I Forgotten Sons, Jackson Ryker, Wesley Blake e Steve Cutler Molly Holly Ricochet Art Root Tony Nese, l'ex campione dei pesi leggeri di NXT Cassius Ono Sara Logan Kate Lee, super colpaccio da NXT Altro megacolpo, Pete Dunne Drake Maverick Il Gallus, Mark Coffey, Joe Coffey e Wolfgang Marina Shafir e Jessamine Duke I Dudley Boyz, Baba Ray e Devon che tornano in WWE dopo tanti anni di assenza Adesso un super colpaccio per la divisione femminile Alexa, Bliss Shotzi Blackheart E chiudiamo in bellezza con, ah non ancora, Aleister Black, grande colpaccio da Roe, super colpo Shaina Baszler, l'ex campionessa femminile di Roe E adesso si che chiudiamo in bellezza Easy Free ragazzi A proda a SmackDown E dunque ragazzi Termina così Questo super star shake up Vi aspetto Veramente numerosi per la seconda stagione targata Il volto del ring Della Universe Mod Grazie a tutti Ciao